sono molto stanco perché sono anche appena tornato da un bel calcetto ci stava ci voleva però sono anche contento di poter fare questo video con cui vi darò la buonanotte o magari il buongiorno per domani perché magari qualcuno sarà già letto è atterrato è atterrato è tornato a torino è arrivato il colosso di dark steel ragazzi colosso di dark steel ma quanto diavolo è grosso guardate qui quanto diavolo è grosso bremer è arrivato è atterrato a caselle ringrazio guanito per la foto che ha pubblicato su twitter non so dove l'abbia scattata forse da sky a giudicare dal layout ma bremer è tornato a torino e questa volta per diventare ufficialmente un calciatore dalla juventus domani mattina in programma le visite mediche domani è mercoledì ricordiamolo non perché sia importante sapere che domani è mercoledì quanto più perché poi giovedì la juventus partirà per gli stati uniti d'america dove andrà a svolgere la tournée in cui ci saranno anche le prime amichevole tra l'altro la prima amichevole per dibala da tifoso della roma si è conclusa poco fa mi pare con la sconfitta della roma per 32 con dibala in panchi in tribuna che assisteva a questo discorso secondario la prossima amichevole della juventus che sarà la prima stagionale vera e propria sarà con un bremer in più magari addirittura dal primo minuto chissà chi può dirlo bremer è arrivato è atterrato firmerà un contratto con la juventus che lo legherà al bianconero per i prossimi almeno penso tre quattro anni domani avremo anche un po tutte le cifre ufficiali e purtroppo le cifre ufficiali le abbiamo avute anche per delit nella giornata di oggi dico purtroppo perché ragazzi secondo me la cessione di delit è stata accelerata e si è deciso di accelerare le cessioni di delit e quindi guadagnare anche qualche soldino in meno senza andare a forzare il braccio di ferro col baier monaco proprio perché probabilmente la juventus si era accorta che il tempo per poi andare ad inserirsi su bremer era limitato e c'era il rischio veramente di perdere anche questo calciatore dopo culibali che era il vero e proprio piano a della juventus per sostituire delit secondo me sono pochi i soldi che abbiamo guadagnato da delit stiamo parlando di meno di 80 di euro comprensivi di bonus di cui 10 quindi sono 67 più 10 insomma come dicevo nei video di qualche giorno fa mi aspettavo una cifra intorno ai 90 milioni di euro sono abbastanza deluso poi la mia delusione si ferma fino a lì nel senso che io sono un tifoso e il tifoso deve tifare per fortuna non devo fare i conti non devo rispondere del denaro della juventus non sono io che vado a programmare quelle che sono le spese sicuramente a livello di spese annue ecco qua la juventus ha fatto un passo in avanti al di là della plus valenza che importa come no però sicuramente delit con un ingaggio molto elevato e un costo di ammortamento molto elevato per via di un cartellino che era stato pagato tanto aveva un certo costo a bilancio ora non ho fatto i conti magari se volete nella giornata di domani prova a farli un po più attentamente per dirvi quanto occupava ogni anno di lite quanto occuperà bremer sicuramente bremer occuperà di meno a livello di risorse bisogna vedere se poi riuscirà ad essere in campo anche un giocatore importante oggi sono davvero galvanizzato dell'arrivo di bremer proprio perché era una trattativa nella quale non credevo non avevo fiducia ero veramente convinto che anche lui sarebbe poi andato all'inter così come tanti altri giocatori perché l'inter aveva già fatto un buonissimo mercato fino a questo punto e forse gli ultimi due giorni gli ultimi 48 ore frenano un po' l'ambizione dell'inter che avrebbe veramente completato una sessione estiva di altissimo livello con anche di vale bremer poi questa cosa non avverrà positivo per noi tifosi la juventus perché non riesce non riesce l'inter a potenziarsi in un certo modo attenzione che però nelle ultime ore sono uscite bocci che vanno verso la conferma di screener addirittura verso il rinnovo ricordiamo lo scadenza 2023 vediamo io ho scritto anche un pezzo sul numero 10 oggi pomeriggio dicendo che la serie a comunque ha già perso troppi difensori centrali importanti chiellini del hit koulibaly e probabilmente sarebbe un peccato veder partire pure screener e poi diciamoci la verità se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto contro una squadra come l'inter o come il milan perché il milan è il campione in carica non dimentichiamocelo mai che sono al completo e hanno comunque ancora all'interno della rosa dei calciatori che sono appetibili sono considerati dei top all'interno del campionato diventerebbe ancora più bello ragazzi io domani tra l'altro ve lo butto lì perché mi è venuto in mente ho già programmato la premiere intorno anzi no a mezzogiorno preciso mai a mezzogiorno esce un video che abbiamo registrato il mese scorso era fine giugno quindi ovviamente all'interno del video ci saranno anche alcune voci di mercato svalvolate come per esempio koulibaly o kostici di cui al momento non si parla nemmeno più però avevamo registrato il live su twitch una carriera allenatore su fiva 22 dove appunto l'obiettivo era cedere matais d'elite da parte della juventus e simulando lasciando fare al computer noi ovviamente abbiamo gestito soltanto e curato il lato calcio mercato simulando le partite vedere se la l'obiettivo sarebbe poi riuscita a vincere la champions nel giro di tre anni io vi dico solo che abbiamo fatto il triplete non voglio dirvi in quante stagioni perché vi toglierei la magia però vendendo matais d'elite è stato possibile stare maledetto ovviamente su fifa e sono anche curioso di sapere un po secondo voi qual è la formazione titolare che poi ha vinto la champions league vi dico subito che bremer è stato uno dei difensori acquistati per sostituire matais d'elite questo sì e quindi ragazzi niente bremer sarà un calciatore a juventus ovviamente manca solo un ultimo piccolo grande scoglio cioè quello delle visite mediche ma penso proprio io non voglio gufarla spero proprio non dico penso perché spero proprio che non ci saranno problemi sarebbe veramente clamoroso ma non voglio nemmeno pensare che possa esserci questo impedimento la juventus è pronta ad abbracciare il suo nuovo difensore centrale che ha iniziato anche un po già a seguire qualche giocatore su instagram come bonucci nei giorni scorsi anche altri giocatori da juventus avevano iniziato a seguire bremer sono quelle cose simpatiche che una volta conclusa la trattativa ti fanno sorridere non focalizzatevi mai però solo su sui social network e quelli che sono i cosiddetti indizi social perché hanno validità veramente pari a zero infatti bremer aveva messo un mi piace una sua caricatura mentre indossava la maglia dell'inter purimosso infatti bremer alla fine diventerà un calciatore della juventus e se dell'it è stato probabilmente pagato poco per quella che era la mia idea bremer forse è stato pagato un po troppo rispetto a quella che era la mia idea poi è sempre vero che la juventus è riuscita a cedere dell'it bene o male allo stesso prezzo forse qualcosina di più sì qualcosina di più rispetto a quello che l'aveva comprato utilizzandolo per tre anni quindi non c'è problema perché a livello di bilancio la plus valenza c'è stata di una trentina di milioni di euro e quindi loro sicuramente saranno stati contenti così dall'altra parte ci auguriamo che un giocatore come bremer che non è giovanissimo come diritto perché è un pelo più vecchio un paio di anni in più però ha già 25 anni quindi inizia a essere nel momento clou della carriera è proprio quel momento della carriera in cui devi iniziare a rendere bene e tra l'altro credo che bremer abbia una doppia sfida all'interno del suo futuro prossimo cioè quello di dimostrare di essere un giocatore da juve un giocatore importante per la juve un giocatore titolare per la juve che deve provare per forza di cose a rivincere il campionato e allo stesso tempo cercare di guadagnarsi una maglia per il brasile per il mondiale in brasile non dovesse riuscirci si vocifera anche di un bremer che potrebbe giocare per l'italia ma credo proprio che in questo momento con un mondiale alle porte la priorità di bremer oltre al juventus possa essere quella di indossare il verde oro sfida difficile perché tra tiago silva tra il difensore del real e del militao e tra tanti altri come per esempio marchinhos o lo stesso gabriel dell'arsena insomma brasile è una retroguardia ben fornita però occhio perché solitamente quando questi calciatori raggiungono uno status differente giocando in squadra con uno status differente poi è molto più facile è molto più probabile essere convocati anche in nazionale maggiore bremer ha iniziato a far parlare di sé tanto da guadagnarsi una chiamata della juventus è un investimento molto molto alto e quindi tutta la mia fiducia in questo momento va nell'operazione bremer proprio perché il difensore negli ultimi due anni soprattutto nell'ultima stagione ha raggiunto livelli allucinanti vediamo se riuscirà a replicare anche con la nostra maglia addosso grazie